eccoci allora siamo tornati insieme in diretta dopo questo contributo molto interessante firmato da Giulia Morcavallo pronti per continuare la nostra diretta con il prossimo ospite l'approfondimento con Nicola Morcavallo a cui cedo subito la linea grazie Paola torniamo insieme per tornare a parlare di un argomento che ci sta molto a cuore due settimane fa circa avevamo parlato di quello che è il valore l'importanza del servizio civile nazionale universale nell'ambito della crescita dei giovani e ritroviamo quest'oggi il presidente del forum nazionale del servizio civile Enrico Maria Borrelli per parlarci anche di un'importante novità ma andiamo per ordine e partiamo da quello che è stato il vostro contributo offerto nell'ambito di un appuntamento che si è appena concluso a Bari di Dacta Puglia il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell'università, della formazione e della ricerca scientifica ben trovato presidente buongiorno ecco dicevamo del contributo del servizio civile nazionale nell'ambito di Dacta ecco tre giorni che avete vissuto in che modo quali sono i contenuti che sono stati sviluppati? Bari di Dacta è un'iniziativa di orientamento rivolto alle scuole e quindi parla principalmente alle scuole quindi al corpo docenti e successivamente anche agli studenti chiaramente delle scuole quindi racconta un po' le offerte formative, le novità, tutto ciò che in un qualche modo attiene non soltanto alla scuola ma anche un po' le progettualità della scuola e siccome insieme al governo sono oramai anni che stiamo cercando di promuovere il servizio civile come esperienza formativa di crescita, di arricchimento per i nostri giovani abbiamo ritenuto che Dacta fosse una delle vetrine più idonee non soltanto per l'appunto dicevo perché si è rivolta alle scuole ma perché in particolare abbiamo la possibilità di confrontarci con i docenti e sono i nostri principali destinatari in questa fase parlare con gli insegnanti che sono quelli che favoriscono l'orientamento dei giovani quelli che parlano ai ragazzi che ascoltano anche le loro esigenze durante il periodo di crescita e di istruzione e inserire tra le varie opportunità di formazione dei ragazzi in prospettiva certo non quelli delle scuole medie ma già dalle superiori il servizio civile riteniamo sia utile come percorso di orientamento e di formazione per i giovani quindi questo è stato il lavoro che abbiamo fatto molta è l'attenzione che chiaramente le scuole dedicano a questa esperienza perché oltre agli staci e tirocini anche le opportunità di mobilità all'estero il servizio civile si è compreso essere particolarmente formativo non solo da un punto di vista delle competenze che si acquisiscono ma della formazione della persona quindi l'ingaggio dei giovani la responsabilità che possono assumere insomma il sentirsi e l'essere adulti e quindi le scuole in questo collaborano tantissimo e a suggello dell'attenzione che c'è intorno al mondo del servizio civile proprio nelle ultime ore una bella notizia che accogliete davvero con soddisfazione ed è quella relativa all'aumento dei fondi dedicati al servizio civile universale previsti dalla manovra 2025 ecco come avete accolto questa notizia beh con un grande sospiro di sollivo era tempo che tendevamo dal governo una risposta c'era stata assicurata già lo scorso anno quando in legge di stabilità non riuscimmo a reperire le risorse necessarie per quest'anno il rischio era di far partire un contingente di poco meno di 20.000 giovani rispetto ai 50 dello scorso anno ai 70.000 di due anni fa quindi la preoccupazione era grande il governo aveva assunto un impegno il ministro Abodi in primis si era detto disponibile chiaramente a perorare questa causa in Consiglio dei Ministri così è stato quindi anche se in chiusura del 2024 l'impegno del governo si è stato mantenuto quindi non soltanto in realtà fondi per l'anno in corso quindi a dicembre ci sarà un bando che sarà aperto ad oltre 52.000 giovani ma anche l'individuazione di risorse necessarie per il 25, il 26, 2025, 2026 e 2027 dando in questo modo anche una prospettiva di stabilità a questo istituto che è uno degli obiettivi che noi da 50 anni rincorriamo e che confidiamo che in un qualche modo durante questa legislatura si riesca a raggiungere cioè stabilizzare le risorse al servizio civile in modo da non andare incontro annualmente e alle difficoltà chiaramente di costruzione di un bilancio. Quindi si può guardare al futuro con abbastanza serenità ma è fondamentale il riconoscimento del ruolo di strumento per l'esercizio della cittadinanza attiva come avete tra l'altro scritto in una nota nonché per l'educazione e la formazione delle nuove generazioni nel solco dei valori costituzionali un ruolo questo che viene ovviamente suggellato anche dallo stesso stanziamento di fondi in manovra. E allora in conclusione per i giovani che si stanno per avvicinare a questo mondo ecco il futuro è positivo un invito a capire, a comprendere l'importanza del servizio civile. Sì, l'invito che facciamo sempre ai giovani è quello a partecipare a questa esperienza di servizio civile perché è un anno per loro, un anno in cui hanno la possibilità di scegliere di fare qualcosa di un po' diverso dalla consuetta formazione che ovviamente in un'età a cui si rivolge il servizio civile dai 18 ai 28 anni i giovani prevalentemente studiano cercano una prima esperienza di lavoro il servizio civile è un anno per loro possono scegliere il progetto che più preferiscono fare qualcosa che gli interessa anche personalmente e crescere all'interno di quell'esperienza hanno un contributo economico dallo Stato che gli consente di vivere questa esperienza senza la preoccupazione ovviamente di dover trovare anche un lavoro gravano meno sulle famiglie in un qualche modo è un'esperienza che i ragazzi conservano con grande entusiasmo anche nella memoria tutti i giovani che hanno completato l'esperienza di servizio civile la raccomanderebbero ai loro coetani quindi l'invito che facciamo ai più giovani quelli che ancora non hanno avuto questa opportunità è di fare come è di seguire questo esempio e di regalarsi un anno per loro stessi e di crescere nel sulco dei valori costituzionali grazie, grazie davvero di cuore al Presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile Enrico Maria Borrelli buon lavoro e alla prossima a voi e alla prossima